Le canzoni sono capaci di compiere dei veri e propri miracoli, lo hanno scoperto gli spettatori del Miracolo delle Canzoni, questo evento che si è tenuto al Teatro Romano, con protagonisti il musicista Robby Facchinetti e poi il compositore Maurizio Fabrizio e il produttore Giancarlo Lucariello. Andiamo al Teatro Romano. La canzone che chiude questa serata è proprio almeno tu nel universo. Gianluca, io pensavo di averti scelto e pensavamo tutti e noi tre di averti scelto, in verità ci hai scelto tu e chissà quando ci hai scelto. Grazie per questo viaggio che hai fatto con noi nei ricordi. Robby Facchinetti, Maurizio Fabrizio, due compositori e due uomini meravigliosi che vivono con più spiritualità degli altri, che hanno questo grandissimo dono. loro hanno avuto fede in me e fiducia in me. Il nostro segreto è che noi ci siamo presi sul serio. Anche se va un attimo via la luna, ogni addio può essere libertà. la realtà moltiplica luci ed ombre, ci darà da vivere senza noi. e si può dividersi e non sparire. Se è così, riabbracciami quando vuoi. e poi non sarà mai tardi per farci vedere insieme sicuri di chi ci ama domani. domani e ci importa la fortuna non perderci di vista mai domani domani. basta trovare il coraggio la parte migliore del coraggio e domani. domani grandi partenze e speranze di avere ragione domani. domani forse sognare un difetto ma chi lo conosce domani. domani precipitare mi insegna a volare domani. per vivere per vivere per vivere per vivere perché il mondo finirà ma non domani. domani 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 vi